Il primo pressing da parte dei due attaccanti del Milan e Scharau e Robinho vanno a pressare i propri difensori luviese che sono costretti a rinviare il pallone da considerare a... Di vicino Mexes, tra i tanti indisponibili anche Alessandro Nesta, sta trovando spazio ultimamente Filippo Mexes, inizio di stagione, per un problema che si portava dietro ai tempi della Roma, sarà di Natale alla battuta di questo... Dicevamo, due indicazioni, in caso di ripartezza, due esterni devono andare, aprire bene il gioco Milan che è mercoledì, subito pressione di Armero, Abate dietro per Mexes Prova a liberare con un lungo lancio Mexes Spazio per aspettare, preparare bene questa... Largo a destra ovviamente Abate, sempre tenuto d'occhio da Armero, pallone per Mexes Avanza a testa alta il francese, si muove davanti Robinho, il tocco per Emanuelsson Lui dall'altra parte Abate, Mexes può allargare per Mesba, ora c'è campo Tantissime volte, sempre con la stessa intensità Di Natale dalla bandierina, da dietro per Tiago Silva Mexes Mexes cade e si rialza subito, serve... Armero però non molla, Abate all'indietro rischioso, Mexes libera come può Arriva poi Emanuelsson, può partire Armero di prima, cerca di Natale Mexes in vantaggio, riesce a liberare Scelta di Guidolin di allungare la squadra avversaria E non ha giocato in settimana Cosa che... Rosini si lamenta con i compagni di centrocampo perché non vede lo smarcamento L'unico spazio che poi la maggior condizione atletica probabilmente che Guidolin vede nei suoi giocatori Permette di sfruttare con queste... Emanuelsson Mexes Porta avanti il pallone, Filippo Mexes lì vicino, il tocco per Emanuelsson All'Udinese Arrivato dal Palmeiras dove ha giocato le ultime due stagioni del campionato brasiliano Sedorf Arriva Mexes Sale Abate a destra, si fa vedere lì davanti Emanuelsson Il lancio è per lui, ma c'è proprio Danilo a chiudere Cerca l'arrivo a destra di Mexes Sale bene il Milan adesso, attenzione, l'inferiorità all'Udinese Mexes con il destro Andanovic la fa sua Ha tentato la conclusione, è una soluzione da difensore Che comunque si è inserito con il tempo giusto Ha visto la porta davanti, ha tentato il tiro tra l'altro Danilo La rimette dentro, di testa Mexes C'è un fuorigioco di Benassia Ha lasciato giocare l'arrivo Reimovic, la capacità di essere lì Sedorf per Mesba È evidente che serve un Milan più propositivo, anche più coraggioso se vogliamo Anche perché sotto di un gol È chiaro che scoprirsi con questa Udinese non è mai una buona idea Poi prova il tocco dietro per Emanuelsson Qui fin troppo altruista secondo me il Sharawi Rimessa laterale per il Milan Mexes Ancora Mexes Per pazienza Domizzi Fernandez a saltare Si sarà fatto sentire come Allegri Sedorf Mette dentro Ambrosini non può arrivare Neanche Mexes Ha provato a metterla giù Andanovic pronto a riprendere il gioco E qui ha chiesto un po' troppo a se stesso Armero ha recuperato Ed è partito Ma c'è Mexes In questo momento ha chiesto semplicemente alla squadra di rimanere ordinati Non vuole persino che si vada a prestare sul portiere e sulla difesa L'assenza pesante Allora ovviamente Guidolino adesso dovrà cambiare Da valutare quelle che sono le condizioni Armero prova il sinistro Adesso ha ripreso il controllo del centrocampo Quando prende palla ripara Il pilonese è una grande squadra Mexes Abate ancora Robinho che si fa vedere dietro per Mexes L'apertura dalle parti di Mesba Non solo deve pareggiare Deve tornare a segnare Che sono già due partite che non segna Abbiamo ricordato in precedenza Flores Anche se insomma E' anche passato un po' di tempo Dal momento in cui Aveva deciso La traiettoria di Les Sharawic E' stato intelligente a buttarla in quel modo Verso la porta Non era un tiro Fica dal coordinamento Marco Caineri Domizzi ha provato su calcio di punizione Strana anche no? Possiamo dire Richiamo a Mexes Jalson Fernandez Non riesce a ripartire Abate ha toccato all'indietro per Mexes Mesba Ma anche per come è venuta la partita no? Milan è stato spesso in difficoltà contro quest'udinese Dalla bandierina Eccolo il cross Pallone nel mucchio Tutti a saltare Forse un braccio alto Non riesce a concludere Ci ha provato Torje E anche a modificare forse la storia di un campionato Il Milan risponde Dopo Le Brute Le Brute Le Brute Le Brute Grazie a tutti.